Sono molte le chiese in Garfagnana ancora inagibili dopo il sisma del 2013. Per molte frazioni la chiesa rappresenta un vero punto di aggregazione, non solo religiosa. Alcune sono state restaurate e rese agibili, mentre altre sono ancora in fase di recupero, come quella di Cerageto, che a breve verrà aperta nuovamente al culto. Una tra le chiese che necessita urgentemente di essere messa in sicurezza è quella di San Pietro a Castiglione Garfagnana. L'edificio che vediamo oggi risale al 1197, ma certamente molto più antico. La chiesa è posizionata ai piedi della rocca medievale di Castiglione e ha sempre rappresentato molto per la comunità locale. Accanto alla chiesa di San Michele e la chiesa di San Pietro ha tutto il suo valore, soprattutto anche le opere elcivitali che la segnano profondamente, e poi ha un'importanza che merita veramente di mettere tutte le energie e sacrifici per conservare questo patrimonio che ci hanno lasciato coloro che ci hanno preceduto. Per salvare l'edificio si è costituito un comitato e presentato un progetto di recupero dettagliato che fissa già da ora il futuro culturale e religioso dell'edificio. Credo che sia venuto il momento di recuperarla, recuperarla per creare qua un centro non solo religioso, di culto, di devozione, di preghiera, ma un centro legato alla presenza dei civitali a Castiglione. A Castiglione rimasero i civitali per cento anni, hanno lasciato qua opere significative, vorremmo ricordarle, un centro di arte, un centro di cultura.